Ok, ci troviamo con Pietro Romitelli. Lunga scalezza di titoli nobiliari perché mi sembra che iniziamo nel 2005, mi sbaglio, quando si è cominciato a muovere nel magico mondo della musica, Pietro Romitelli, Piquadro, Festival di Sanremo, Reparto Gioveni, Amici, poi cantautore di successo, scusa, autore di successo, perché è iscritto per i più grossi cantautori e interpreti della musica italiana e si è andato con questi anche a Sanremo. Quindi voglio dire, il curriculum è lungo e è importante. Ti ringrazio Stefano, ti ringrazio. Ma scherzi. Niente, la chiacchiata ovviamente sul tema del giorno, il tema del giorno è il 74ismo Festival della canzone, rimarchiamo questa parola, italiana, anche se poi quello che conta a quanto pare il business, la polemica, l'apparire, la rincorsa ad apparire da parte di tante persone e spesso volentieri la canzone rimane dietro le quinte. Però noi parliamo della canzone, non ci interessa. Certo, certo. Trenta brani, una bella selezione che ha fatto Amadeus. Ecco, da parte tua che sei del mestiere, le prime impressioni che poi dopo, come sappiamo, ogni qualvolta che si ascolta una canzone, poi occorre un attimo per digerirla e magari al quinto, sesto, settimo ascolto si comincia a capire se può entrare nel nome della nostra playlist oppure no. Però, ecco, per quello che hai ascoltato, cosa te ne pare? Ma da quando c'è Amadeus, soprattutto il Festival di Sanremo è cambiato. Cioè, prima di lui si scriveva la canzone per Sanremo e c'era la famosa canzone Sanremese, che aveva dei connotati particolari, quindi una melodia molto orecchiavile, molto aperta, molto larga. E solitamente la canzone Sanremese in realtà non coincideva poi con il gusto discografico, appunto, di quello che andava in realtà fuori dal Festival di Sanremo. Mentre da quando c'è Amadeus, lui ha cercato di portare, appunto, quello che funziona oggi al Festival di Sanremo. Qualcuno dice ha portato il Festival Bar al Festival di Sanremo. Non è del tutto sbagliato quello che dicono. Perché se ci facciamo caso su 30 brani, almeno 20 hanno la cassa in quattro. Cassa in quattro è quel ritmo che porta a muovere il piedino, diciamo, quindi ha un ritmo dance. Diciamo, è una cosa che fino a cinque anni fa era impensabile che su 30 brani, un terzo, due terzi di questi brani avessero il ritmo dance. Quando in realtà era quasi l'opposto in realtà. Io da autore ti posso dire, Stefano, che riconosco a livello di discografico su 30 brani, secondo me almeno 20 faranno una certificazione. Quindi almeno un disco d'oro perché sono tutte potenziali hit sia radiofoniche che a livello di streaming. Sì, ma allora, per quello che ho sentito io, mi hai detto 20 brani, ma su 30, 31, hanno tutti un po' il ritmo da tormentone. Adesso ho detto 31 per dire che, insomma, voglio dire che l'idea è quella. Quindi se non è il brano è il refrain che viene ripetuto in maniera, non dico ossessiva, ma che ha appunto a tormentone. Ho fatto un po' fatica, alcuni brani che ritenevo importanti come testo, a capire il testo. Cioè nel senso che quando l'hanno cantati, tipo l'estate, insomma, non si comprende bene quando cantano quello che dicono. Mentre se vai a leggere il testo, ci sono anche testi importanti. Beh, il testo di Fiorella Manoia soprattutto è un testo molto, molto importante. Lei invece ogni parola la pesa, cioè è veramente un macigno quando canta, ha un'interpretazione incredibile e si capisce benissimo. Infatti credo che sia il miglior testo del festival, scritto insieme a Cheope, che è il figlio di Mogolle, un grandissimo autore. Però sì, alcuni testi non si capiscono perché poi, come dicevo, è cambiato il gusto, è cambiato, non c'è più la canzone Sanremese, quindi le metriche sono molto più fitte e qualche parola si perde e poi anche l'emozione diventa un fattore importante. Per cui io avendolo calcato quel palco ti posso assicurare che fa tremare tutti. Beh, ci credo. Praticamente, quando dici fai tremare tutti, perché l'impatto del pubblico, ma non solo l'impatto del pubblico, ma anche il sapere che ci sono milioni di persone che ti stanno guardando. Ma guarda, io ti dico, nel 2007, quando ho partecipato a Sanremo Giovani in prima persona, 30 secondi prima di salire sul palco, sono scoppiato a piangere, ma piangere dopo lacrimoni e quindi era anche difficile performare con il Magone in gola. Ma, adesso non faccio nomi, ma c'erano cantanti che potrebbero essere dei super ospiti al Festival di Sanremo. Ho visto cantanti terrorizzati quell'anno. Cioè, vabbè, un ragazzino di 18 anni ci può pure stare, ma ho visto veramente gente che fa questo lavoro da decenni, a grandissimi livelli, che c'è, nel senso che tremavano. Quindi spaventa tutti e quindi ci può pure stare che alcune parti di testo non si capiscono, ma perché sono emozionati. Un'altra cosa che ho visto nel corso di questi anni, che, come dicevi te, Amadeus ha portato molta radio, cioè molti giovani che fanno rap, quindi, appunto, la parlavi come metrica, noi, gli ascoltatori, sentiamo queste melodie rappate, praticamente. O che siano in napoletano, o che siano in italiano, o che che, insomma, c'è molto rap, molto di questi, che sono i giovani talenti, che si affacciano, che poi sulle piattaforme fanno numeri spaventosi di ascolti e visualizzazioni. E' cambiato proprio il sentore della musica, o è anche questo un passaggio? Ma questo io non lo so, non lo so, onestamente. So che sono delle vere e proprie realtà, come è stato nello scorso Lazza, come è quest'anno Geolier, cioè non sono fenomeni passeggeri, perché non è che fanno solo qualche visualizzazione, cioè fanno numeri veramente importanti, e secondo me il metro, la misura della percezione di un artista, è soprattutto il live. Questi due artisti fanno i forum, fanno i palazzetti dello sport, cioè quindi fanno numeri veramente importanti, cioè gente che paga il biglietto e fanno migliaia di paganti a data, quindi non è solo la canzone che va su Spotify, Apple Music, in realtà è un fenomeno ben consolidato, e poi secondo me Amadeus è furbo, perché porta questi rapper, ma in realtà non fanno rap a Sanremo, c'è quel background, quindi quella cadenza sulle strofe, ma portano brani comunque melodici, cioè Lazza non era un brano rap, quello dell'anno scorso, quest'anno Geolier pure, comunque c'è della melodia, quindi li porta perché sono dei fenomeni, però li porta a giocare comunque in un campionato diverso da loro. Un tuo podio virtuale. Ma mio personale o quello che dovrebbe... No, no, il tuo personale, no, vabbè. Vabbè, io sono di parte, per me Loredana prima, metterei gli artisti con cui ho collaborato, quindi Loredana, Emma e il volo. Se dovessi dire il gusto mio personale, ci sono delle hit incredibili, che penso a Mahmood, Angelina Mango, ma la stessa Annalisa ha un pezzone, Gazelle verrà fuori alla distanza, i The Colors, questo brano se lo porteranno fino all'estate prossima, e Geolier ha un missile, cioè, quindi, no, ci sono veramente tante potenziali hit. Chiudiamo questa bellissima chiacchierata con E Piero cosa fa? E Piero, adesso continua a scrivere, ho scritto l'ultimo singolo di Raph, ho partecipato allo Zecchino d'Oro per la prima volta come autore, e mi ha stimolato molto questa esperienza, perché non avevo mai scritto per i bambini, vedremo, insomma, se ci sarà un proseguo, ma è stato molto divertente, e poi quello che succederà, vedremo, è tutto in divenire. Perfetto, in bocca al lupo per tutto, e quando ci sarà da sentire una tua cosa, una tua canzone, mi raccomando, ci sentiamo. Assolutamente, assolutamente. Un abbraccio grosso, ciao. Un abbraccio a te. Ciao, ciao. Ciao.